Cos'è l'affiliate marketing? L'affiliate marketing è un modello di business online in cui una persona promuove i prodotti o servizi di altre aziende e guadagna una commissione ogni volta che viene effettuato un acquisto attraverso il suo link di affiliazione. È un modo efficace per guadagnare denaro online senza dover creare o gestire un prodotto o un servizio di propria creazione. Il concetto di affiliate marketing è abbastanza semplice. Un affiliato promuove un prodotto o un servizio attraverso i propri canali di marketing come un blog, un sito web, un account sui social media o una lista di e-mail. Quando un potenziale cliente clicca sul link di affiliazione dell'affiliato e effettua un acquisto, l'affiliato riceve una commissione. Una delle ragioni per cui l'affiliate marketing è così popolare è perché è un vantaggio per tutte le parti coinvolte. L'azienda che offre il prodotto o il servizio può raggiungere un pubblico più ampio attraverso gli affiliati senza dover investire in costose campagne pubblicitarie. Gli affiliati, d'altra parte, possono guadagnare denaro promuovendo prodotti o servizi che si adattano al loro pubblico di riferimento senza dover affrontare l'onere di creare un prodotto o un servizio da zero. Per diventare un affiliato di successo è importante scegliere il giusto programma di affiliazione e i prodotti o servizi da promuovere. È fondamentale che i prodotti o servizi siano di alta qualità e si adattino al tuo pubblico di riferimento. Inoltre, è importante considerare la commissione offerta dal programma di affiliazione. Assicurati che la commissione sia equa e che ti permetta di guadagnare abbastanza da giustificare il tuo impegno e il tuo tempo. Una volta che hai scelto il programma di affiliazione e i prodotti o servizi da promuovere, puoi iniziare a creare contenuti di qualità per promuoverli. Puoi scrivere articoli sul tuo blog, creare video su YouTube, pubblicare post sui social media o inviare e-mail alla tua lista di contatti. La chiave per promuovere con successo i prodotti o servizi è creare contenuti utili e di valore per il tuo pubblico. Mostra loro come il prodotto o il servizio può risolvere un problema o soddisfare un bisogno specifico. Oltre a creare contenuti di qualità, è importante anche monitorare le tue attività di affiliazione. Tieni traccia dei click, delle conversioni e delle commissioni che guadagni per capire quali strategie funzionano meglio per te. Puoi utilizzare strumenti di tracciamento delle conversioni per tenere traccia dei tuoi risultati e ottimizzare le tue campagne di marketing. L'affiliate marketing può essere un'opportunità eccitante per guadagnare denaro online e creare la libertà finanziaria che molti sognano. Con la giusta strategia e l'impegno necessario, puoi costruire un business online di successo nell'affiliate marketing e godere dei benefici di lavorare da casa o da qualsiasi altra parte del mondo. Nel prossimo capitolo esploreremo i vantaggi dell'affiliate marketing. Scopriremo costi, flessibilità, potenziale di guadagno e risorse. Continua a seguire il corso per scoprire come puoi sfruttare al massimo l'affiliate marketing. Scopriremo costi, flessibilità, potenziale di guadagno e risorse. Scopriremo costi, flessibilità, potenziale di guadagno e risorse.